aiutami? aiutami Dè, di pulire ecco, si, andiamo a pulire oh, ti do un libro? si, vieni di su dai, andiamo a prendere il libro, vieni con me devo prendere il libro? di lei, vieni, 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 vieni stai vedere di quelle sai, di quelle si va? papà, ti penso tu, papà? si? ciao amangè è questo? ah è vero dai vieni devo leggere vieni sui piedi sulle gambe sulle gambe dai vieni sulle gambe dai 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 su sull'altra sull'a sinistra dai